c'è la buona il speducchiato o il zappillo ma la musica pure lo recita ma io c'è il guardiano è bravo si, ma non c'è bene si, lavorano poco perché c'è stato a vedere il zappo è nazione zappo quando il canadà dice, la si lavora il canadà o il canadà? ah? ora... la faccio pure la mentiare le caniche le caniche le caniche le caniche si ma tu non vedi la caccia di sede per cosa no si pure vedi prendi le canne in casa si vedi la pangu si vedi un film, un fotografo un film proprio un film cosa del catundo? il catundo sai che è da un paese ancora italiano un angostico qualcosa ha capito chi sei o vedi? la prima moglie vedi la seconda moglie eh si vuoi che fai? no, agli bracci si furono il motore il motore il motore è esaurito no questa l'avresti? si che gliela avresti tu si ricordi questo film cosa dicono? non lo so vediamo cosa dicono ma sono qualche volta qua siamo alle murge con rana murge ma qualche volta può essere possibile possibile vederlo questo filmino non credo per l'angolo per l'angolo per la madonna tipo italiano tipo italiano col marrufo il marrufo si chiama che vino che vino che vino che vino che vino sembra che stai bevendo bravo ah vabbè vabbè ma c'è che prendi si tutto il procedimento tutto il procedimento non c'è a te come argentina c'è ma c'è la buona il racconto che c'è la buona oh ah ma c'è la buona si ah allora diciamo la buona io ho chiamato il dritto per paio è stato a rinnovare e di più che ora vogliono i motosappi che vogliono largare con i motosappi perché noi non vogliono con la pelle una capetta no allora ci vogliono a rinnovare andiamo a pAppio e di più e di più hanno dell'argogna a voi in fila cosa moderna capite non c'è la buona come se fosse no io ho ho la buona bello 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 si è la buona continua che ho calmerato non c'è e adesso specialmente che sei andato capito non c'è la buona non c'è un'operazione molto delicata non c'è un'altra cosa e sempre a fila capito? e poi c'è un'operazione molto delicata non c'è un'operazione molto delicata solo specializzati Arcangelo Bellizzi Arcangelo Bellizzi ti chiamo con il papà Bellizzi Francesco Tronzo sopra è rovinato il Tronzo Arcangelo Tronzo, Francesco Tronzo non c'è il bambino, non c'è il bambino non c'è il bambino non c'è il bambino non c'è il bambino OSL l'ordi vuol dire non c'è il bambino io Contrada Murgia, proprietà di Francesco Tronte, vicino a Ziclinicchio, vicino a Ziclinicchio, vicino a Ziclinicchio, vicino alla strada vicinale Murgia, до via all Cario dei isto accesato? Loro invece della strategia è uscita il ripos lamb plano. Voi la donna essere uscita un po' pubblica, si avresti riascatezvi 0 a 4 in sigla ce ne vorreste bello in macchina, va bene? e si muove i figli, i figli i figli i figli ma si muove in grado? si muove in grado dopo si effettuano l'operazione l'operazione trappiando le drie oh e dopo si muove in grado se si muove in grado e dopo i vocali non lo so non lo so ecco non lo so nel lavoro vuol dire che si muove in grado se siamo qui ma sono tontoni se ho la verità per specificare meglio non lo so il progetto è fatto l'operazione è fatta operazione è fatta non lo so e si muove in grado bello e con Dio si aspetta la vendemmia è non lo so che si 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 ci si si si